Allora, onorevole Appendino, cominciamo subito da lei. Le dispiace che questo confronto poi si farà solo tra Giorgia Meloni e Elie Schlein? Guardi, mi dispiace... Abbiamo due secondi, Maglielo, e quanto l'abbiamo? 20 secondi, ma poi le rido subito la parola. No, per il semplice motivo che si confronteranno due persone che la pensano allo stesso modo sull'invio delle armi, che la pensano allo stesso modo sul patto di stabilità e l'unico partito che ha guidato Giuseppe Conte, che invece ha posizioni diverse, no armi, no ritorno dell'austerità, non potrà dire la sua, ci perdono gli italiani. Allora, lei, onorevole Appendino, pensa che ci sia una violazione della par condicio perché il Movimento 5 Stelle ha protestato molto anche attraverso la Presidente della Commissione parlamentare, la vostra esponente... Beh, abbiamo ovviamente fatto emergere la questione, però io voglio ritenere il punto, cioè io credo che qui le questioni sono due. La prima è che Giorgia Meloni abbia scelto con chi confrontarsi, cioè chi sia in qualche modo la contraposizione ed è Eilish Line. E poi soprattutto a me davvero dispiace per gli italiani, perché un dibattito serio che parla di Europa non può vedere confrontate solo le posizioni, ad esempio, di un'Europa che va a riarmo e che non ci sia il partito, il movimento che sostiene invece che si debba non investire sulle armi ma su sanità. Non ci sarà in questo confronto l'unica forza politica che in Europa ha votato contro il nuovo patto di stabilità, che sono 13 miliardi di tagli. Cioè torniamo all'austerità e quella politica che vuole un'Europa di solidarietà che abbiamo visto con il Presidente Conte, con il PNRR, non ci sarà. Ecco, io non penso che questo sia corretto, ma per un voto informato, perché chiudo, dottoressa Berling, sa che cosa sta mancando in questo dibattito? Potete venire tutti qua che facciamo tutti i confronti che volete. Ma guardi, il Presidente Conte non si sottrae, sa cosa sta mancando? Io sono pronta a farli tutti. Che tipo di Europa vogliamo? E io l'Europa che voglio non è quella della rincorsa agli armamenti, non è quella che taglia, è un'Europa solidale. Quindi vedremo Giorgia Meloni confrontarsi con Giuseppe Conte che ha accettato l'invito di Mentana, immagino, no? La vedremo lì e la vedremo lì spiegarci perché ha detto sì al patto di stabilità e crescita che è quell'Europa di cui lei sta parlando fantastica di Giorgia Meloni che ha fatto 13 miliardi di tagli su sanità, scuola e nuove tasse. No, io aspetto. Guarda, io credo che voi non possiate parlare di miliardi perché voi avete creato 220 miliardi di buco nei conti pubblici. Dovreste avere la dignità di tacere, di non insegnare agli altri dei patti di stabilità, dei miliardi, dei conti pubblici. Voi siete gli ultimi che possono parlare dei conti pubblici perché li avete sabotati con le vostre misure demagogiche, con il rete di cittadinanza, con il super bonus, con i banchi a rotelle, con tutti i soldi che avete portato via. Quindi dovreste chiedere scuola agli italiani. Sì, è che il governo da 18 mesi andranno avanti per anni a dire che è colpa dei super bonus di finanza quando ci portano 13 miliardi di tagli all'anno. Io capisco che sia difficile nascondere i fallimenti, però gli italiani non sono stupidi. Di tal governo ha commettibile responsabilità. Magari anche paura delle menzogne che potrebbero essere smontate. Allora, punto primo, non è stato certo il Premier Meloni a scegliersi nell'interlocutrice, ma lo dicono i numeri, ad oggi il Partito Democratico è la seconda forza presente nel Paese e quindi non vedo perché non si debbano confrontare. Dire che Meloni e Schlein hanno la stessa visione dell'Italia o dell'Europa è veramente un'eresia, scusatemi. Sulle guerre hanno votato uguale. Sul patto di stabilità, l'unico che ha votato contro il Movimento Democratico. Non c'è solo la guerra e comunque anche sulla guerra le motivazioni di Stingo ci sono. Ma detto questo, dire questo, peraltro Schlein è una rappresentante abbastanza estrema del PD con una visione totalmente diversa su qualsiasi argomento. È la segretaria. Sì, però è una segreteria. è una segreteria rispetto a se fosse stato Borracini o rispetto alla segreteria Letta ha una visione un po' più spostata a sinistra, quantomeno su alcuni temi, anche di rilevanza europea. Quindi dire che Schlein la pensa come Meloni è innanzitutto darsi la zappa sui piedi perché il 5 Stelle è alleato in qualche caso. Ci sono differenze sul tema delle armi. È un problema vostro se trovate che Schlein abbia più punti in comune con Meloni rispetto a voi che governate insieme in Sardegna, che parlate di Campolargo. Anche oggi Bettini ha magnificato il Campolargo. Insomma, se ne voglio dire. Quindi il problema è vostro se pensate che Schlein abbia più punti in comune con Meloni rispetto a voi. No, l'ha appena detto. Meloni si confronterà su una persona che la pensa come lei. Ha detto sulle aiuti militari a lupare. Sì, ma non è che Meloni la pensa così. Il fatto è che noi siamo un paese che fa parte della Nato e la Nato ci impone, diciamo, se stiamo in una coalizione Nato non è che possiamo decidere. È una scelta politica. E io dico ormai, a distanza ormai di mesi e mesi in cui stiamo assistendo a una politica fallimentare che ci ha detto che sarebbero successe tante cose che sarebbe crollata la Russia che Putin sarebbe stato un cambio di regime che con lo scontro militare ci sarebbe stata una vittoria militare sulla Russia. Ad oggi non è successo nulla e noi pensiamo che in Europa servano costruttori di pace perché questa strategia ha fallito e su questo siamo diversi dal Partito Democratico e lo rivendico. Ma non è che dobbiamo essere uguali. Noi vogliamo costruttori di pace e ci impegniamo su questo. È come il patto di stabilità. Io non condivido quello che dice Gentiloni e quello che dice Partito Democratico. Per noi l'Europa deve essere solidale che significa soldi sulla sanità significa soldi per le infrastrutture pubbliche significa soldi per la scuola non i 13 miliardi di tagli a cui ci sta condannando Giorgia Meloni e che neanche ha il coraggio di votare perché si sono pure astenuti non hanno neanche votato contro e fanno finta perché non se ne vogliono assumere la sua stabilità. Tra l'altro quel patto di stabilità va bene onorevole fidanza quel patto di stabilità che le nuove regole che voi comunque avevate approvato avevate concordato invece poi non avete votato a favore di quell'accordo pregresso e pare che l'Europa insomma terrà in conto il fatto che uno prima ha detto una cosa e poi ne ha fatto un'altra. Adesso come pensate di regolarvi? No, no guardi no, no questo è un tema che assolutamente non esiste perché un conto è la dinamica tra i governi l'altro conto è un voto politico nel Parlamento europeo e l'Italia ha negoziato fino all'ultimo per migliorare le condizioni del patto di stabilità rispetto a quello precedente quello dei tempi dell'austerità è stato migliorato a nostro avviso non abbastanza Giorgia Meloni non ha mai fatto mistero a caldo ha dichiarato questo non è il nostro patto perché noi avremmo voluto più coraggio da parte dell'Unione Europea nel scomputare dal debito quelle spese per investimenti soprattutto proprio sulle materie su cui l'Europa ci chiede di investire penso alla transizione ecologica penso alla transizione digitale penso proprio alle spese sulla difesa ci voleva più coraggio non ce n'è stato abbastanza nonostante i miglioramenti ottenuti proprio grazie a Nazione Italiana motivo per cui noi in Parlamento ci siamo stenuti avendo questo giudizio però voglio dire questo io penso che sia davvero stucchevole e credo che sia davvero la grande truffa di queste elezioni il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia messo nel proprio simbolo la parola pace perché vedete tutti vogliamo la pace tutti siamo impegnati per la pace il tema è quale pace giusta è una pace giusta quella per cui noi dobbiamo accettare che un paese aggressore ampute in più di un terzo del territorio di un paese aggredito questa è la pace io non credo che tutte le pace stiano uguali penso che si debba perseguire una pace giusta in cui un popolo aggredito possa poter difendere i suoi confini la sua sovranità la sua integrità territoriale nazionale da un paese aggressore su questo bisognerebbe avere qualche parola più chiara da parte del Movimento 5 Stelle perché a dire pace siamo tutti bravi tutti vogliamo la pace il Papa la Meloni Conte non funziona così io non ci sto al fatto che guerra e pace possono stare insieme la verità è che questa vostra strategia dell'escalation militare ha fallito su tutti i fronti e noi stiamo dicendo che serve un ruolo dell'Europa in una definizione di uno spazio di diplomazia e guardi fidanza lei è riuscita a non rispondere a una cosa ma scusi ma lei il suo ministro c'era o no a negoziare il patto di stabilità non è che potete nascondervi dietro l'astensione i 13 miliardi di tagli ci sono o non ci sono glielo dico io ci sono è responsabile e Giorgia Meloni è il ministro Giorgia e siete voi che in Europa avete detto io non l'ho interrotta mi faccia finire che avreste cambiato tutto invece ci state portando all'austerità del governo Monti che Meloni peraltro sostenne a suo tempo anche se fa finta allora voglio sentire detto questo è chiaro che la commissione europea è la stessa di tre anni fa cinque anni fa è chiaro che quando Meloni dice ritroveremo un protagonista ritroveremo l'Italia protagonista intende chiaramente anche a seguito di queste elezioni nelle quali appunto lei ci ha messo non a caso la faccia non a caso Giorgia Meloni si è candidata ce l'hanno messa tutti perché tutti i leader pur sapendo tranne Conte e Salvini però Meloni l'ha messa da presidente del Consiglio sapendo benissimo che poi in Europa non ci vanno perché il giorno è una cuffa elettorale questa perché non è serio può essere mettere in la faccia o imbrogliare gli italiani a seconda imbrogliare gli italiani perché vanno a votare pensando tra una persona che tra l'altro anche se Giorgia Meloni non andrà è chiaro che lei da presidente del Consiglio e da presidente di ECR darà comunque la linea fidanza che ha in Europa da anni non è che la linea è quella che abbiamo visto in questi mesi non è da preoccupare bene devo chiudere il voto in più Giorgia Meloni è il voto che stiamo vedendo che francamente si definiscono patrioti e vanno contro gli interessi naturali questo dobbiamo dirgli devo chiudere ma tanto ne riparleremo durante questa campagna elettorale